Eccoci qua, ben ritrovati al secondo appuntamento di arte con Stefania Albertini. Ieri abbiamo ripreso un po' a conoscere il tuo lavoro, i tuoi tantissimi lavori, le tue tantissime occupazioni. Oggi Stefania, come accade di solito, solitamente io mi piace con tutti i miei artisti, con tutti i miei ospiti, con tutti gli artisti quindi, che vengono qui in studio da noi, mi piace dedicare il secondo incontro alla loro esperienza biografica, perché secondo me è molto importante e perché per conoscere a fondo un artista è importante sapere come vive, come nasce, come affronta la sua formazione, qualora questa ci fosse o meno. Raccontaci di te, della tua esperienza biografica. Dove sei nata? Sono nata a Forlì, però mi sono trasferita subito a Cesena, quindi mi sento cesenate. Ho fatto l'istituto d'arte a Forlì e ho seguito Arte dei Metalli, che mi ha formato, sì, ho fatto oroficeria. Quindi ho seguito il corso di plastica e poi di smalti. Presso l'istituto d'arte? L'istituto d'arte, sì. E questo lavorare in piccolo mi ha servito molto, perché comunque ho creato già sin dalle superiori queste mie geometrie. Sono nata un po' lì, le mie geometrie e i miei quadri. Poi ho lasciato l'istituto d'arte, finendo l'istituto d'arte, sono andata all'Accademia di Belle Arti a Bologna e lì è stato il momento in cui mi sono avvicinata alla pittura. Ho seguito decorazione e di conseguenza ho cominciato a dipingere. I tuoi genitori come sono stati all'idea che tu intraprendessi questo percorso? Beh, naturalmente non mi hanno osteggiato, però comunque non ero così contenti, perché comunque sbocchi di lavoro non ce n'erano. Che bambina, che ragazza eri tu? Eri la tipica artista, diciamo, un po' ribelle, un po' dark nell'animo oppure no? Sì, sì, nell'animo, non fuori esteticamente. Avevi una personalità abbastanza forte? Molto chiusa, forte, sì, poi inizialmente i miei miei avevano detto di… o comunque avevo cominciato un'altra scuola, prima dell'istituto d'arte. Che era? Assistente per l'infanzia, perché volevo continuare a fare pallacanestro, io ho fatto per dieci anni pallacanestro, volevo comunque mantenere tante cose e quindi oltre al disegnare e dipingere, dipingere tra virgolette, perché quelle classiche cose che si fanno alle medie… Certo, i disegni, l'educazione tecnica… Però già si vedeva che avevo… La propensione, la predisposizione. Però avevo appunto fatto un anno di assistente per l'infanzia, però alla fine ho detto no, c'è troppo poco disegno, c'è poca arte, quindi cambio. I miei lì già panico, fa forlì, quella scuola brutta, aveva una brutta anomea, però io ho preso, sono andata via lo stesso, ho preso, dovevo spostarmi perché io… Senza il supporto dei tuoi? Oppure poi si sono rassegnati? Beh, dopo si sono rassegnati, non è che… Eh, già è un passo avanti. Sì, 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 adesso sono molto orgogliosi di me, però naturalmente all'inizio erano più preoccupati per il fatto che dovevo spostarmi, quindi prendere un treno e poi un tram, un autobus, quindi tutte queste cose che forse per un genitore spaventano di più che l'idea della scuola in sé per sé. E quindi niente, i miei sì, mi hanno appoggiato però, tra virgolette, dopo. Solo dopo, solo dopo. Vedendo la tua soddisfazione, la tua realizzazione, la tua serenità nell'affrontare quello che fai, anche perché ero comunque molto indipendente, da subito sono… stavo sempre fuori casa, in giro, quindi comunque… Ah, sì, eri… Sì, 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 sempre molto indipendente. E quindi dovevo già organizzare, la mia vita la dovevo già organizzare. Quindi ti trasferisci a Bologna per fare l'Accademia delle Beglie? No, non mi trasferisco a Bologna. Viaggi? Vado, sì, faccio la pendolare perché comincio già a lavorare. Ah. Al Teatro Bonci come maschera, perché comunque… Ah, lavoris… Praticamente, sì, alla sera. Dall'ora, da quanto lavori al Teatro Bonci? 22 anni, praticamente sì, dal primo anno di Accademia ho cominciato a lavorare perché i miei non potevano comunque permettersi di mantenermi totalmente. E quindi ho cominciato a lavorare alla sera, tornavo a casa, andavo a lavorare e poi la mattina… Facevi la maschera? Facevo la maschera, sì. Perché il teatro? Perché comunque è una forma d'arte e mi dava la possibilità di… Guardare gli spettacoli. Sì, di avere degli stimoli, oltre che gli spettacoli gratis, quindi era già un'ottima cosa. Però sì, era comunque… è tuttora un mondo fantastico. Tu sei un'appassionata di teatro? Sì, 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 a parte che devo comunque vedere gli spettacoli per lavoro, però sì, ci andavo già con la scuola, quindi avevo già un approccio non solo didattico, ma anche personale al teatro. Certo. Come ti sei avvicinata all'arte? Come è nata il tuo amore, la tua passione? Beh, sinceramente il professore è da un ragazzo, nel senso il mio compagno di allora. Ah, da un ragazzo? Sì, 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 io ho cominciato dipingendo perché lui dipingeva… A quanti anni? 16 anni. Ah, quindi… Nel senso, io ho fatto l'istituto d'arte e lì ho conosciuto il mio primo ragazzo a livello proprio importante. Sì, ma ancora prima come hai scelto? Perché hai scelto di fare l'istituto d'arte? Perché avevi la passione? Perché avevo, sì, avevo già la passione, cioè disegnavo sempre, comunque avevo sempre la matita in mano, la penna in mano o i pennelli in mano, quindi comunque sì, io… Però cominci a dipingere veramente… Veramente, solamente dopo… A 16 anni grazie a questo ragazzo, perché dipingeva anche lui? Sì, dipinge tuttora anche lui e al suo professore… Perché adesso è il tuo compagno ancora? No, 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 però siamo rimasti amici, molto amici, quindi sì, ci frequentiamo ancora, andiamo a vedere mostre… Avete ancora questa forte passione in comune che vi avvicina. E in più il suo professore, perché io facendo l'officeria non avevo possibilità di seguire dei corsi di pittura, se non dopo andando all'accademia. E invece con lui io mi intruffolavo, perché non stavo quasi mai in classe, anche perché ero già praticamente, sì, un spirito un po'… Libero. Libero, quindi frequentavo anche le altre classi, soprattutto le sue, dove c'è il professore che è un pittore che si chiama Daniele Masini di Forlì e da lì ho cominciato a, più che altro, imparare le tecniche. Quali sono le prime cose che hai dipinto? Beh, quelle classiche che si dipingono. Io amavo molti paesaggi, quindi comunque le architetture sono sempre state le cose più vicine a me, proprio perché la geometria era importante, come anche la prospettiva è molto importante, che nei miei quadri poi con gli anni ho trasformato, sono diventate campiture di colore piuttosto che proprio prospettiva lineare. Però l'ho studiata anche tanto, quindi la geometria descrittiva ne ho fatta tanta, e quindi dal di lì ho acquisito le tecniche. Quindi amavi dipingere ai paesaggi, ai ritratti? Sì, ritratti pochi, non mi davano molto, però vabbè, poi dopo disegno dal vero, comunque quello lo dovevi fare, lo facevi, quindi sì sì. Sei sempre riuscita, forse no perché comunque so che fai tantissimi lavori, ma sei riuscita a mantenerti con l'arte? No. Mai? Nessun periodo dell'arte? No, c'è stato un periodo che, è stato un buon periodo anche a livello economico, però devo dire che dovendo dare priorità al lato economico, ma soprattutto a come è andata la mia vita, perché poi io mi sono sposata, separata, divorziata e tutte queste cose qui, prendi casa, un mutuo, naturalmente non ho potuto fare altro che continuare a lavorare per mantenermi. E la pittura purtroppo è sempre stata quella un po' più sacrificata. Adesso cerco in tutti i modi di portarla avanti insieme al lavoro, quindi di dargli un… perché sento… Di dargli spazio. Di dargli spazio. E spero e cercherò sempre di dargli più spazio, perché è la cosa che mi riempie e che comunque mi rappresenta. Ti gratifica di più. Mi gratifica, certo. Però nonostante questo, comunque hai sempre praticato dei lavori molto attinenti al settore artistico, o no? Ho avuto sempre questa fortuna, comunque quando sei nell'ambiente, poi di avere i contatti giusti, conoscere le persone giuste o comunque quelle che ti possono dare la possibilità di continuare a stare nell'ambiente. E quindi dal di lì, non so, ho creato l'associazione, questa è la mica poco, ma prima, dieci anni fa, ne avevo creato un'altra. E quindi creare eventi, inventarli. È da nove anni che organizzo Rocca in concerto, che è questa rassegna di musica estiva. E tu sei molto appassionata di musica. Sì, ho tanti amici musicisti. Ritornano sempre gli strumenti musicali. Mi chiedevo proprio il perché. Quando ti ho conosciuta all'inizio, dicevo, ma… Sì, sì, sì. Diciamo che hanno un'importanza, oltre alle linee geometriche, alle forme, eccetera, eccetera, che poi vedremo. Però gli strumenti musicali sono una parte importante del tuo operato artistico. Sì, nel certo punto della mia vita, oltre all'arte, che prima andavo sempre a vedere mostre, comunque nei circoli… Di cosa ti piaceva? Di cosa eri appassionata? Sempre parlando di arte figurativa, cosa ti piaceva? Cosa ti attreva di più? Come tipo di pittura? Di pittura, sì, assolutamente. Beh, io amo Chézanne, è il primo, in assoluto. Poi Picasso, ma anche Sioni, quindi anche la pittura italiana. Cioè, sono tutte situazioni… E sono tutti nomi che poi vedremo meglio, ti hanno affiancato, ti hanno… Sì, mi hanno dato degli spunti o comunque… Ti hanno dato degli spunti, alcuni critici ti hanno riconosciuto anche una paternità, hanno riconosciuto in loro una paternità dei tuoi lavori. Ritorniamo alla tua esperienza. A Bologna scegli di fare decorazione? Decorazione, sì. Per quale motivo? E' di tanto appassionata alla pittura, ma scegli… Perché decorazione mi dava più possibilità di imparare tecniche diverse e nuove. La pittura invece era solo pittura o comunque, in quanto tale, dovevi seguire solo determinati lezioni. Io invece mi interessava seguire e avere un più ampio raggio. E quindi ho scelto decorazione, che poi mi ha portato a capire che comunque la cosa che mi interessava di più era la pittura. Però a scuola, cioè all'accademia, poi avere tante influenze, tante possibilità, quindi dava bene qualsiasi cosa a livello proprio di esperienza. Certo, anche di apprendimento, no? Sì, 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 infatti. Mi piaceva molto scenografia, che forse per il lavoro che faccio mi sarebbe anche stato più utile. Però facendola pendolare non è facile seguire alcuni corsi e quindi ho dovuto anche scegliere base alla possibilità di poter tornare a casa. Cosa ti ha lasciato questa esperienza accademica, questa formazione? È una domanda che ho posto anche all'artista che abbiamo avuto la scorsa settimana e che tu conosci molto bene. Cosa lascia l'artista, la formazione artistica? Cosa ha lasciato a te Stefania Albertini che scegli un percorso ma in realtà vuoi farne un altro? Scegli la decorazione ma in realtà vuoi fare pittura? La decorazione ti aiuta a imparare tecniche che puoi utilizzare e sperimentare in pittura? Cioè è tutto un percorso contraddittorio il tuo, però sicuramente specchio della tua personalità. Sì, ma più che altro l'Accademia mi ha dato la possibilità di conoscere soprattutto tante persone e tanti stili diversi. E quindi quella è la cosa più importante. Perché poi a livello tecnico comunque è tutta esperienza che ti fai relazionandoti con gli altri, non tanto con quello che i professori ti dicono, però sei tu che devi andare a ricercare quello che ti interessa. Ed è la cosa fondamentale, l'Accademia è questo. Cioè darti l'input per poi ricercare la tua strada. Tu pensi di aver trovato ad oggi la tua strada? Io penso di sì, però è sempre in evoluzione. Nel senso che non penso mai di essere arrivata o comunque di dire, beh, adesso basta, continuo a fare queste cose. No, mi piace andare avanti, pensare di avere ancora un bel percorso. Naturalmente portando avanti però già la mia idea e il mio stile, ecco. E questo non è che, non sono ancora alla ricerca di uno stile e spazio di qua e di là. Lo stile l'hai trovato? Mi sento in questo. Forse si trasformano i contenuti, si trasforma l'approccio. La tecnica può modificarsi, i supporti possono modificare, però comunque quello dove io mi sento e che mi sento rappresentata sono questi tipi di figurazioni che però è sempre abbastanza astrata o comunque... Certo, ovviamente è in trasformazione nel senso che è una ricerca che continua. Anche perché siamo noi stessi in trasformazione, quindi gli input esterni... Evolvendoci e evolve anche la nostra arte. Ebbene Stefania, io ti saluto qui, oggi ci vediamo domani. Saluto anche il nostro pubblico a casa e vi rimando all'appuntamento di domani, sempre con Stefania Albertini. Ciao a tutti. Ciao a tutti.